La vicino marina di Ragusa, tutta quella zona là, dove diciamo il lato... Avanti, canale 45, ascoltando il Totò Radio Mitraietta in Monaco di Bagliera. Poi, prima, secondo, terzo, quarto, rotto, non ci devo essere capito, perché non c'è quello che organizza la situazione. Ma, Mauro, non c'è di riunire, ci devi essere, basta me. Avanti, Mauro Terrorista, Mauro Terrorista, senti il Totò Radio Mitraietta in Monaco di Bagliera. Quando verassi io, non farai questa, domani sera io ho la figlia di mia sorella che fa la cresma e mia moglie dice la fai ritornare. Ma vediamoci, facciamo la prova.